Il Palazzo dei Pavoni fu realizzato nel 1904. È uno dei più rilevanti esempi dello stile Liberty in ambito savonese. Il Palazzo dei Pavoni presenta per la prima volta a Savona l'utilizzo del cemento armato. Al primo piano si trova una fascia di piastrelle in ceramica, dai colori vivaci e motivi naturalistici tra cui spiccano i pavoni che danno il nome all'edificio. In alto si possono notare dei girasoli color giallo acceso. Le forme dei capitelli richiamano caratteristiche tipiche dell'antico Egitto. Il palazzo si trova in una delle arterie principali del centro cittadino, via Paleocapa. I portici di via Paleocapa sono sede di numerosi negozi e luoghi di svago per i savonesi e rappresentano il centro commerciale della città. Nel XIX secolo fu realizzata per collegare rapidamente il centro storico con la stazione ferroviaria. Grazie per la visione!